E' arrivato ieri pomeriggio il via libera della giunta comunale di Como allo studio per la gestione di Villa Olmo. Su proposta dell'assessore all'urbanistica Marco Butti, è stato formalizzato l'incarico alla società romana Struttura SRL per predisporre lo studio della gestione dell'intero compendio Villa Neoclassica e Parco. La società era già stata indicata nella primavera dello scorso anno per la valutazione dei modelli alternativi di gestione. In queste settimane il team di lavoro, coordinato dall'assessore Butti con gli esperti dell'azienda romana, aveva rivisto tutte le cifre presentate nel business plan che faceva parte della delibera della giunta Lucini. Per completare il percorso di gestione di Villa Olmo, all'interno di uno scenario più ampio che coinvolgerà anche Villa del Grumello, il comune ha incontrato gli enti che dovranno collaborare in questo nuovo modello. Una parte dello studio riguarderà poi anche la possibilità di realizzare grandi mostre all'interno della villa. Ora la società romana avrà 40 giorni di tempo per presentare il lavoro.